Un gruppo di lavoro composto da Snam, Rina e Bormioli ha avviato un progetto che punta sull'idrogeno per la riduzione delle emissioni dell'industria vetraria. L'Italia è il secondo produttore europeo di oggetti in vetro. Il progetto Divina, decarbonizzazione dell'industria vetraria, ha proprio l'obiettivo di ridurre le emissioni nella fase di fusione del vetro che rappresenta più del 50% del consumo energetico complessivo di tutto il processo di produzione. Oggi il principale vettore energetico utilizzato dalle vetrerie è il gas naturale e le emissioni di CO2 ammontano a circa un milione e mezzo di tonnellate annue. Nel complesso circa il 3,5% delle emissioni dell'intero settore manifatturiero. L'impiego di un blend di idrogeno al 30% nei processi fusori del vetro a livello nazionale consentirebbe di ridurre le emissioni di 200.000 tonnellate, pari a quelle di 100.000 auto.